Qui davanti abbiamo il monte Verbicano, sempre oltre il 1.900 m, subito lì dietro il monte del Pozzo Tempo. Continuiamo con la cresta e quello lì è il monte Crepe a cuore. Continuiamo ancora, sentite il vento, qui ne affronte a monte Viglio e stiamo oltre i 2.000 metri. 2.154-2.500 m, ora se continuiamo ancora, in fondo, in fondo, in fondo c'è una piramide che si vede, quella è il Gran Sasso. E poi qui avanti i Monti Gemelli, ovvero sia il Monte Velino e qui di fronte il Monte Cotento. Ecco, lo faccio vedere meglio, il Monte Cotento. Questi sono i Monti Gemelli, il Monte Velino. E l'indietro, se vedete, quel triangolo già in fondo è il Gran Sasso a 2.912 m.